Radio Radicali, siamo con la senatrice Sandra Zampa del Partito Democratico al termine della discussione sulle mozioni che riguardano il salario minimo, sulle quali la maggioranza ha presentato un ordine del giorno che vi ha sbarrato la strada. Allora, oggi è stata anche la giornata in cui si è raggiunto un accordo per una sospensiva alla Camera sulla proposta di legge. Che cosa sta succedendo e come utilizzare questo tempo prezioso fino a settembre per almeno cercare una mediazione? Io credo che l'ordine del giorno, se uno lo legge, tradisce e tradisca ciò che peraltro anche alla Camera è certificato, cioè che la stessa maggioranza è in grande imbarazzo. Un imbarazzo gigantesco nel dire no al salario minimo, non solo perché stiamo parlando di una misura che discende in parte da una direttiva europea che la maggioranza nel 2022 ha votato. Ed evidentemente oggi è facile dire che però non corrisponde al salario minimo, ma soprattutto perché in realtà molti, anche loro elettori, non hanno affatto gradito questo no pregiudiziale al salario minimo. Quando parliamo di salario minimo le persone devono sapere che noi parliamo di 9 euro l'orde l'ora e che molti contratti sono al di sotto di questa tariffa oraria. Io ne ho citate alcuni, dal rider che va in bicicletta, che guadagna meno di 9 euro l'orde l'ora, a chi fa le potature nella manutenzione e nella pulizia, sta al di sotto, chi svolge servizi di vigilanza sta molto al di sotto. E questo in un contesto in cui l'Italia, tra le altre cose, ha i salari tra i più bassi in Europa. Quindi noi stiamo davvero parlando di una grande quantità di lavoratori che sono quasi in una condizione di povertà e addirittura di lavoratori che sono in condizione di povertà. Io ho citato un dato che mi ha colpito quando a mia volta l'ho letto studiando la materia e cioè che ci sono circa 400.000 lavoratori con contratti attivi che percepiscono il reddito di cittadinanza che peraltro ora gli è stato togli, verrà tolto tra poco. A settembre, proprio quando dovrete fare un accordo? Questo significa esattamente che anche il lavoro non ti garantisce più di poter uscire da una condizione di povertà estrema. E io credo che la Meloni abbia percezione che hanno fatto una mossa veramente sbagliata. Da qui questo tergiversare chiedendo a noi di rinviare e presentando ordini del giorno pieni di buone intenzioni come quello che ha presentato a prima firma Malan in cui si dice tutto quello che di buono si potrebbe fare salvo fare quello che oggi di buono serve, cioè il salario minimo. Naturalmente credo che il mese che verrà, che il tempo che abbiamo davanti debba essere consumato in un confronto serrato. Di certo noi non torneremo indietro. Io credo che, non lo so, non credo che esista una persona in Italia che pensa sinceramente che si possa pagare meno di 9 euro l'ora un lavoratore. Oggi aprendo la trattativa, o comunque dandola disponibile, la Meloni ha detto ma perché la sinistra non ci ha pensato prima, visto che era una grossa... Beh, guardi, siccome questo, adesso io d'ora in avanti censirò le volte in cui loro prendono la parola e dicono perché non l'avete fatto voi, oppure noi siamo arrivati adesso, a parte che questo adesso è passato già un anno, segnalo, ci siamo quasi, a settembre, ecco, siamo a un anno. Però quando io in aula ho chiesto esattamente questo, quando pensate di essere responsabile delle vostre scelte mi hanno detto tra cinque anni, quindi avverto gli ascoltatori di Radio Radicali, i cittadini italiani che loro risponderanno delle loro decisioni tra cinque anni. In ogni caso io tra cinque anni li aspetto al VAR, che andremo a misurare cos'è che hanno fatto. Ma adesso al di là delle battute polemiche, che però qualche volta te le cavano veramente fuori, io penso che se uno ha sbagliato, se ha omesso di fare una cosa che doveva fare, intanto primo si corregge, secondo comunque qui parliamo di atti parlamentari. Ora, gli ho anche sentiti dire in questi anni, ne urlavano continuamente nelle orecchie, quell'anno e mezzo di Covid in cui ho fatto la sottosegretaria, che il Parlamento è esautorato dei propri compiti. Se i governi non fanno, vorrà dire che il Parlamento può fare. E secondo me oggi si è persa una grande opportunità, perché votare intanto una mozione che va in quella direzione, secondo me li avrebbe aiutati a prendere la strada giusta. Che ripeto, secondo me i loro elettori si aspettano. Io non penso che si possa tollerare di sentire dire che noi vogliamo far chiudere delle aziende perché paghiamo i lavoratori. Siamo tornati a un livello di, diciamo, siamo a un ragionamento primitivo, perché poi se li facciamo schiavi, guadagniamo ancora di più, apriamo delle altre aziende evidentemente, se lavorano poi gratis, ognuno di noi può aprire un'azienda. Io trovo che sia veramente sconcertante. Mi piacerebbe che gli italiani ascoltassero il dibattito che si è svolto oggi in aula. Un'ultima nota, il fatto che il Fondo Monetario Internazionale dia alla nostra produzione più in alto di quello che si potesse pensare, significa secondo lei che i privati i soldi un po' ce li hanno? Significa che hanno guadagnato moltissimo, veramente, che questi ultimi due anni in realtà sono stati molto sostenuti, molto sostenuti, dal governo Conte due in poi, perché secondo me abbiamo assicurato sostegni, aiuti anche durante il Covid, che poi Draghi è riuscito ulteriormente a migliorare. Significa però che eravamo anche a un livello basso e quindi bisognava crescere, è sempre meno complesso, ma significa soprattutto che la qualità anche del lavoro, dell'apporto che un lavoratore mette in un prodotto italiano evidentemente andrebbe valorizzato, anche con una retribuzione dignitosa. Qui parliamo di dignità del lavoro. Grazie alla senatrice Sandra Trump del Partito Democratico.